bene carissimi fratelli e sorelle oggi presentazione del signore al tempio oggi è la festa dei consagrati ecco la chiesa del 27esimo anno che celebra la festa dei consagrati in realtà prima questa si chiamava la purificazione di maria ma poi dopo la chiesa ha centralizzato più la luce ecco della festa sulla presentazione del signore al tempio ora maria che cosa si doveva purificare che secondo il nostro dogma di fede e immacolata quindi immacola senza macchie san giuseppe era giusto gesù è tre volte santo quindi di sicuro ci vuole dire a noi che dobbiamo avviarci verso una purificazione secondo la legge di mosè per poi come diceva la prima lettura il nostro sacrificio essere gradito al signore oggi fra e manovele a fare secondo anno di professione semplice ecco si avvia al terzo e poi la professione perpetua per dare totalmente la vita al signore e le parole che emergono dalla liturgia ecco sia per focalizzare sempre il discorso su gesù ma anche poi sul suo corpo che deve invitare il maestro ci vengono tre parole o tre congetti uno nella pace l'altro è la luce e l'altro è segno di contraddizione ora gesù innanzitutto è venuto per portarci la pace per farci vivere la pace quindi viene al tempio alla fine per dirci di obbedire alla legge perché siccome lui non aveva bisogno di essere sottomesso c'è nessuno se non in comunione col padre lo spirito santo in quanto uomo sottomesso al padre ma in quanto dio no e quindi lui ci insegna lui che non aveva bisogno tre volte santo di andare al tempio dice io io non ho bisogno ci potrebbe dire di purificarmi perché sono tre volte santo e ci vado e mi ci faccio portare dei miei genitori e quindi voi chi siete che non andate in chiesa e allora se volete imitarmi dovete andare al tempio perché lì e che si vive la comunità e la comunione con dio e con gesù prima parola abbiamo detto pace perché samuele e samuele simeone l'anziano simeone dice ispirato dallo spirito santo dice il testo oggi lucano che lo spirito santo era con lui dice ora lascia signore che il tuo servo vada in pace noi potremmo dire come secondo la tua parola quindi caro fai manovel se tu vuoi la pace sempre la tua vita e la vuoi trasmettere agli altri dice sempre secondo la tua parola signore in te e negli altri anche in mezzo all'espina anche in mezzo alla tripolazione c'è sempre la pace perché uno vede chiaro vede perché quando c'è la luce la potenza dei nostri occhi si attiva come diceva il nostro vescovo andone stagliano amministratore apostolo della dio città di nota luce dice sempre il saggio simeone luce per illuminare le genti gloria del tuo popolo israele perché lui vedendo questo bambino nelle braccia della mamma conti al tempio dice i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli luce per rivelarti alle genti quindi questa luce che porta gesù è riferita alla salvezza hanno visto i miei occhi hanno visto la salvezza e questa è luce per rivelarti alla gente quindi la luce che tu devi portare in giro come gesù lo ha fatto è perché noi abbiamo gli occhi per salvarci dai peccati perché gesù è nato per salvarci dai peccati ecco l'emmanovelo tutti chiamano per l'emanovelo quindi fra l'emanovelo quindi c'è il nome di colui che è nato ecco secondo l'angelo gabrile e che dice a giuseppe che lo chiamerai ecco emanovelo che significa dio con noi egli salverà il suo popolo dei suoi peccati quindi dobbiamo annunciare tu consacri la tua vita per annunciare le persone che se si vogliono salvare pienamente devono di ogni razza popolo lingua nazione gradualmente con rispetto ma senza sincratismo cioè senza dire che tutte le religioni sono uguali dicendo che tutti hanno parte di verità tutti hanno raggi di verità tutti hanno preparazione di verità tutti quelle che ce l'hanno la preparazione tutte quelle che hanno il raggio tutte quelle che hanno le scintille tutte quelle che hanno la deficienza nei mezzi di salvezza tu devi dire che solo in gesù capo e corpo una la pianezza tutta la pianezza dei mezzi di salvezza come dice un documento del concilio e come dice san pietro solo sotto il nome di gesù sia la salvezza è chiaro la salvezza piena perché anche gli altri hanno qualche mezzo di salvezza e poi luce quindi luce per rivelarsi alle gente ma perché ci dobbiamo salvare perché devo salvare un file nel computer perché dentro c'è una rivelazione c'è qualcosa di scritto e quindi noi ci dobbiamo salvare dai peccati dobbiamo salvare il file della nostra vita perché vogliamo risuscitare vogliamo risorgere dalla morte ci vogliamo alzare dal cimitero dalla cassa da morto come diceva san paolo sesto che i cimiteri si apriranno e noi usciremo dalle tombe con il corpo risorgeremo quindi le ossa si metteranno al nostro posto si riavrà la carne i nervi tutto compreso la vita col soffio della vita che noi riceviamo naturalmente con il battesimo e con la comprensione soprattutto luce di risurrezione cioè risorti per sempre non moriremo mai quindi la salvezza per giungere alla risurrezione altrimenti poi se uno ha fatto il bene ma non l'ha fatto queste cose non può andare subito cioè né in paradiso con lo spirito e alla risurrezione dei corpi avrà una gloria minore perché non tutti i corpi saranno uguali dice l'apostolo paolo e poi Gesù che è venuto a portarci questa luce della salvezza e della risurrezione dice sempre semeone il saggio semeone che era pieno di spirito santo ecco egli è qui per la caduta e la risurrezione non solo per la risurrezione ma anche alla fine per dire a tanti fare se io sono venuto a dare la vista a chi dice di non averla e a chi dice di averla per toglierla perché tante persone sono convinte di vedere ma non ascoltano più nessuno e quindi poi perdono di vista quello che veramente ci dice il signore quindi egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in israele e poi come segno di contraddizione affinché siano svelati i pensieri di molti cuori se tu in coscienza e oltre che scienza che stai studiando adesso filosofia e poi teologia se tu in scienza e coscienza educare la parola di dio la tua coscienza quando vedi c'è qualcuno che non ti capisce dopo che tu fai il bene dopo che tu dopo che chiunque di noi alla fine fa il bene aiuta ai poveri cerca di essere gentile con tutti eccetera e poi le persone ti snobbano oppure non ascoltano eccetera da lì si rivela chi è nello spirito di dio e da chi non è nello spirito di dio è chiaro che il tuo pensiero il mio pensiero il nostro pensiero deve essere quello della sacra scrittura perché la pace secondo la tua parola ma anche la luce secondo la tua parola perché la luce la vediamo nelle scritture come lampada da scabile e come sole quando la mettiamo in pratica e quindi anche noi come dicevo oggi Monsignor Stagliano dobbiamo essere segno di contraddizione come gesù perché come si fa ad ammazzare Gesù è chiaro si capisce che quelle che hanno ammazzato Gesù e l'hanno criticato non erano nello spirito di dio non erano in zentonia con lo spirito di dio come si fa ad ammazzare uno che ti fa tutti i segni di dio moltiplica i pani e quindi un uomo di provvidenza che dà provvidenza che fa ottenere provvidenza uomo che guarisce quindi uno che aiuta con le malattie che ti manda all'ospedale che ti ti costruisci l'ospedale come padre piva eccetera no e quindi tutte le cose che faceva Gesù riviste anche i giorni nostri come si fa a criticare uno che pensa solo a beneficare gli altri significa che non è nello spirito di dio e questi penseranno di salire in cielo ma egli è qui per la loro caduta e per risurrezione soprattutto quindi caduta perché poi anche uno quando cade se fa male poi capisce prima di andare giù c'è la sofferenza fa male mi dispiace allora dare un senso a tutto quello che che facciamo con la parola di dio allora la pace sarà sempre con noi la luce sarà sempre con noi luce di salvezza e di risurrezione e segno di contraddizione perché veramente tanti pensieri sciocchi tante tante filosofie che non serve a nulla cadranno perché tante pensieri proprio odiosi possono cadere tante pensieri di guerra innanzi al destino eterno che noi presenteremo con la luce della risurrezione prima ancora della salvezza e allora saremo segno di contraddizione quando ci facciamo poveri come diceva anche oggi i nostri stagliari quando noi veramente vendiamo le case e le diamo ai poveri e andiamo a fare il cappellino in messico e andiamo a mangiare in messa dei poveri e facciamo il progetto casa vacanza alla fine per aiutare poi i poveri ma i poveri dobbiamo aiutare non solo con le cose materiali poi passano la comunità del recupero dei tossici dipendenti e la menza dei poveri il cappellino in messico e i ponte in Africa eccetera queste cose qua se poi non li portiamo Gesù passano quindi noi facciamo tutte le opere per dire le mie opere che faccio nel nome del Signore parlano poi se ascoltate l'opera più grande è quella di ascoltare Gesù e imitarlo e allora Gesù è morto è vero ha sofferto però soprattutto è risorto per dire anche noi che se lo risorgiamo risorgeremo anche noi e questa è la massima luce lo stipendio che noi avremo per l'eternità e la pensione sarà la risurrezione dove non avremo più né malattie non si sfascerà il corpo più saremo sempre in salute saremo sempre in pace sempre in gioia lì non ci saranno spiriti brutti perché già saranno cadute tutte le ideologie tutte le cose brutte ma solo le cose belle per sempre quindi auguri per questo secondo anno di professione semplice e soprattutto di santa perseveranza per farti santo non solo tu ma anche tu che stai ascoltando salutato Gesù Cristo come sempre salutato